Noi siamo volontari di Radio Maria e stiamo cercando volontari per le sedi di Radio Maria Compilando questo modulo puoi richiedere il giornalino gratuito di Radio Maria Perciò lo compilo e non è gratuito, è gratuito però se si vuole, no no no, se si vuole, se vuole dare un'offerta Allora compilo il modulo per ricevere il giornale trimestrale di Radio Maria, gratuito ma se vogliamo con un contributo che darò sicuramente Una chiesa privata in linea con gli umori della destra italiana, confidente di banchieri e imprenditori È il volto di Comunione e Liberazione che ogni anno si ritrova a Rimini in nome dell'amicizia e ne esce rinnovata negli affari Comunione e Liberazione oggi ha uomini chiave negli istituti di credito, banche e fondazioni Il segretario della democrazia cristiana De Mita li definì teologi d'estate Oggi si sono trasformati in affaristi tutto l'anno, al di là dei giovani volontari, sfruttati e manipolati E a cui va sinceramente il mio pensiero Ho trascorso 12 ore al meeting di Rimini 2011 12 ore fra integralismi cattolici, voti di castità e tanta, tanta amicizia Le vie cui il signore c'è che mi prende qui sono tutte Io ho conosciuto il movimento per la questione di moro Il meeting è una grande fiera in cui Cristo è uno dei prodotti Si vende tutto senza distinzione Automobili, le monete con la faccia di papà Ratzinger Batterie di pentole, il folletto La maglietta 2011 non sono su Facebook ma possiamo essere amici lo stesso E poi accendini e tazze Ciò che mi colpisce sono soprattutto gli sponsor Intesa San Paolo, una banca armata che nell'ultimo anno ha investito in commercio di armi quasi un milione di euro Treni a alta velocità per arrivare primi nella devastazione del territorio Novartis, la multinazionale svizzera che ha inventato il Ritalin Metilfenidato dato ai bambini troppo vivaci Una bomba che fino al 2007 era classificata insieme all'eroina E oggi è diventata curativa Eni che con l'amministratore delegato Paolo Scaroni si batte per il ritorno dell'Italia al nucleare Paolo Scaroni è quello arrestato nel 92 per tangenti Batte già un anno e quattro mesi Le tangenti gli servivano per appalti Enel E poi Finmeccanica che nel 2010 ha incassato più di 18 miliardi di euro In maggioranza per aerei ed elicotteri da combattimento La guerra non va in crisi anche grazie al meeting di comunione e liberazione Con il marchio Finmeccanica sulle magliette di ognuno dei 3200 volontari Il casino, anche se la dipendenza da gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta e curata Dai servizi tossicodipendenze della ASL Possiamo dire qui nell'ambiente di Celle che i soldi non sono più lo sterco del diavolo No, chiaramente no E la Nestlé, conosciuta per le confezioni di latte in polvere regalata agli ospedali Una pratica vietata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità E che secondo l'Unicef porta alla morte di un milione e mezzo di bambini ogni anno Vedo, è tutto sponsorizzato a Nestlé Da dove si siedono i bambini? A che cosa guardano? Per me lo fa Nestlé in questo caso Se lo facevi te magari ti scriveva il tuo nome L'ha fatto per fai e sempre Però no, la Nestlé promuove questi programmi per l'alimentazione e per l'acqua È venuto Silvio Berlusconi quattro volte Ora è due anni che non viene invitato e è cambiato qualcosa rispetto al movimento Io l'ho votato E' segreto? No, posso dirlo? L'ho fatto io E' una soddisfazione il meeting? Sì, è un grande meeting quest'anno Tutto quello che viene, viene prima con l'amicizia e poi con l'amicizia nascono le cose Quando una persona condivide qualcosa che per noi è grande, per noi è un amico Io mi sono sempre accorta che seguendo e obbedendo comunque a quello che ho davanti è molto più facile vivere All'inizio venivo per gli amici perché mi divertivo e poi è proprio un'esperienza interessante Adesso vengo perché è l'unico modo che ho per stare con i miei amici Noi siamo molto aperti perché per esempio noi abbiamo un'amica che è dell'azione cattolica Cioè, con la nostra amica non facciamo discriminazioni Università cattolica del Sacro Cuore In cosa differisce rispetto a un'università non cattolica? Fino a qualche tempo fa bisognava portare addirittura il certificato di battesimo E poi la formazione cattolica è molto importante Perciò non era aperta a tutti Inizialmente bisognava portare il certificato di battesimo Per cui chiaramente un musulmano non battezzato non poteva frequentare l'università cattolica Noi siamo la compagnia di Tipiloschi e del Beato e del Ciorgio Fassati Non conformarsi a tutto ciò che il mondo ci dice Cioè che magari una scuola deve essere pubblica per forza E per questo abbiamo fatto apposta una scuola privata Come definirebbe il suo rapporto con Comunione e Liberazione con tre aggettivi? Che a me riempie la vita E l'aggettivo dov'è? Riempie Tre aggettivi Presti un tre aggettivo Allora E cavolo Devo usare Arricchente Divertente Lei personalmente è favorevole a degli accordi con la destra e un fascista? Oppure no? Ma se è per difendere la vita perché no? Vabbè Continuiamo sempre così Com'è la vinta da Giesine? Bellissima Senti è tutto il discorso legato alla castità? Eh Parlare di castità nel ventunesimo secolo e parlare di futuro? Sicuramente sì Ce n'è un bisogno estremo Ma è tutto il discorso di Comunione e Liberazione legato invece alla castità? Alla? Alla castità E cos'è la castità? E questo è proprio il demonio che tenta La Chiesa che non paga gli isci? Non c'è niente da dire Niente da dire E' giusto che la Chiesa non paghi gli isci? Sì E' una domanda un po' delicata Rispetto alla possibilità che la Chiesa paghi gli isci Voi siete favorevoli o contrarie? Le dipende da fare gli isci Per ora non ne paga nessuna Ecco Diventerebbe una Chiesa più povera Forse avremmo le Chiese più piene Di cristiani convinti E torneremmo forse davvero anche nei valori della gente Beh, una compagnia delle opere Cioè i tiri di quella sintesi così Cioè sono, come posso dire È un insieme di Forse sbaglio Comunque Forse anche un insieme di aziende Messe insieme Ecco Cioè la compagnia delle opere Adesso no Riesco di inizio Che si fa all'interno della compagnia delle opere? Non lo so Non lo so È un'organizzazione che racchiude 34.000 imprese Tu non credi che questo infisci anche nel processo democratico e del libero mercato Il fatto che abbiano delle avvigilazioni particolari Le imprese che ne fanno parte? Non lo so 41 sedi in Italia e in altri 17 paesi 34.000 sono le imprese socie Il fatturato complessivo è stato stimato in 70 miliardi di euro È la compagnia delle opere La compagnia delle opere non è assimilabile a Confindustria Perché non è di natura universalistica E se è vero che chiunque può affiliarsi È anche vero che può farlo solamente sposando un sistema di valore religioso Estraneo alle altre organizzazioni Lo scopo della CDO non è solo quello di tutelare le imprese socie Ma quello di costituire una potentissima lobby In grado di condizionare le scelte politiche in chiave confessionale È lo stesso presidente Giorgio Vittadini a dichiarare Lo scopo di un'impresa eccede gli scopi dell'impresa stessa Rischia di perdere quella che era la sua origine Di solidarietà e di compagnia Sta diventando forse un po' troppo l'ismes Non sempre i soldi sono lo sterco del diavolo Esatto, esattamente Allora fare il volontario significa mettere in atto Il carisma mariano Il carisma mariano rispetto al problema delle antenne di Radiomaria E i tumori dei bambini Guarda, su questo non sono molto preparato Salutiamo da Radiomaria Ciao Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe Delle chiese piene d'oro e delle banche Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe Delle tonnellate di oro e delle vostre banche